Aggiornamento Covid, adesso come sempre diamo uno sguardo al bollettino epidemiologico diffuso dalla Regione Puglia. Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 33.523 test giornalieri per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 7.346 nuovi casi positivi. Sono 14 i decessi accertati. I casi attualmente positivi sono 69.093, mentre 488 sono le persone ricoverate in area non critica e 17 quelle in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono 8.782 in totale le persone decedute in Puglia.